Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ragazzi hanno messo le nuove sfide di Blackpander adesso ci sono quanti suoi occhi questo di Blackpander che forse sarà la skin segreta hanno già messo il suo balletto che forse sarà la sua emoto integrata e bisogna fare queste semplici missioni va bene queste due sono semplici questa è semplice ma nel senso quando ce la fai se fa 5 win è già fatta e appunto hanno anche messo questa dove dei dei distrugio dei sapi e delle ghiaccianoci la mia skin per esempio sempre negli avamporsi ovviamente ragazzi questi sono così brevi aggiornamenti che guardate un po' la skin che dovete toccare per poco e aggiornamenti che forse sarà questa la skin sarà qua la skin di Blackpander evidentemente perché ragazzi è quasi sicuro è quasi sicuro ma speriamo che sia perché piacerebbe oh ma ma aspetta ora 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 si cambia? no allora perchè carino dai tra poco sblocco non ho ancora sbloccato questa mi mando un 4 4 missioni per 4 missioni per 4 missioni non vediamo così modificare la skin vabbè ragazzi questo video finisce qui per darmi le informazioni di Blackpander semplice è una semplice sfida basta farla e avete già il balletto commemorativo e ragazzi questo video finisce qui lasciatevi un commento iscriviti